Bella ragazzi, io sono il Gunner e oggi spacchettamenti potenti Ho acceso un attimo l'applicazione, ho visto che c'erano 5 pacchetti da aprire E direi che è il momento di registrare allora Come al solito saranno i soliti pacchetti fuffa che non mi daranno niente L'unica cosa promettente è che ho visto che sono dei mega pacchetti Quindi potrebbe anche essere che magari uno lo riusciamo a trovare Uno forse Quindi direi di partire subito con lo spacchettamento Sì, sto guardando un po' così perché ho sistemato la camera in un modo casino della madonna Quindi non vi preoccupate Allora, andiamo col primo spacchettamento Il solito contratto che non mi serve a niente ragazzi Il solito contratto inutile Io veramente, cioè, non so cosa dire È una sfiga pazzesca Non troverò mai, credo, qualcuno forte Io comunque i mega pacchetti li lascio un attimo lì da parte Adesso proviamo con quest'altro Ma, come al solito, ci sarà al solito contratto Oh, giocatore raro, sì Il Bayern Leverkusen che non mi serve a niente Visto che io non ho nessun giocatore del Bayern Anzi, quello che vorrei fare è una formazione di Premier League Una Premier League media senza troppe pretese Insomma, non giocatori stellari Anche perché costano una fucilata Io soldi non ne ho O comunque ne ho pochi Bene, via tutto al club Passiamo con l'ultimo pacchetto normale Vediamo cosa ci serva pure quest'altro Anche se, ecco Rico Van Kinkel Che ce l'ho già avuto No, no, non ce l'ho, è vero, no Perché non è doppione Pricklione Solito contratto raro Che non mi serve a niente Via tutto al club Andiamo con il primo mega pacchetto Che ci regalerà magari una gioia Una gioia, chiedo Una Close Close Perché close L'escott, vabbè, ma sì L'escott dell'anno scorso mi serviva Dems, Ivanovic Cos'è? Perché è fuoriclasse Le close Ti va via 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 Dove interessano gli altri E andiamo Niente tutto il resto Inutile ma Di Maria Di Maria guardatelo Dov'è Guardatelo Miller Tarocco tra l'altro Di Maria guardatelo Tutto il suo splendore Secondo me Beh sopra i 100.000 poco ma sicuro Dai No 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 Cosa stavo facendo? Stavo facendo un errore Madornale attenzione Guarda che bello Guardalo Sì Invia tutto al club Sì E adesso Vai con l'altro Ho avuto a culo una volta Ma dai Io ci credo Io ci credo Io ci Costil Ma prima Vediamo Eh Ma no Ma Ma Da Dost Chi sono I Verratti Ma no Ma dai No Beh ancora mi serve Mi serve Si me l'ho preso troppo bene con Di Maria Che adesso abbiamo E possiamo fare la formazione potente Con il ricavato di Di Maria Riusciremo a fare grandi cose Perfetto Perfetto Dai ragazzi andiamo a vedere Quanto vale Di Maria No c'ho il fiatone Non me l'aspettavo Di Maria Oh Qualsiasi Vai Mamma mia Mamma mia quanto vale Spettacolo È fantastico Vale tantissimo Si Oh yeah Bene 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 Cioè quasi quasi lo metto subito Così la concludiamo in fretta Dov'è 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 che non lo vedo Dov'è che me l'hanno infilato Ah boh è qua in fondo Vabbè Ok Azioni E' Altra chiave E' E' Grazie a tutti.